Un caro saluto da Mario Giuliaci, il tempo è previsto per sabato 8 ottobre. Ultimo giorno in compagnia dell'anticicolone nordafricano per l'imminente inizio di una lunga fase piovosa. Il cielo sarà coperto al centro-sud e rovesce temporali dalla sera su Alpi, Piemonte, Liguria e Lombardia per l'avanguardia di una perturbazione in arrivo dalla Spagna. Massimo intorno a 24-27 gradi su Puglia e Isole Maggiore, 22-24 gradi sul resto dell'Italia.